È stata una partita molto intensa, Udine è un'ottima squadra per qualità dei giocatori, per esperienza dei giocatori, per stazza, per fisicità e sicuramente è stata una partita che in realtà ci può dare parecchi spunti su cui lavorare. In questo momento le intensità aumentano, è normale che sia in questo momento della stagione, contro una squadra veramente tosta, siamo stati liberi, non siamo mai riusciti a trovare la chiave di andare sopra, anche se abbiamo fatto nel momento importante due contropiedi sfortunati e un tiro aperto che poteva darci il primo vantaggio, magari sarebbe stato diverso, però ovviamente dobbiamo ancora fare un passo avanti per frutteggiare un'intensità di questo tipo soprattutto di trasferta, Udine è una squadra che ha giocatori di grande talento, ha una buonissima organizzazione, ha intensità difensiva, come tutte le gare che abbiamo disputato fino adesso. La prepariamo sapendo quali sono i loro punti di forza e cercando di essere pronti a trovare le chiavi durante la partita per metterle in difficoltà e per sfruttare quelle che sono le nostre qualità migliori. Una domanda un pochino più specifica dal punto di vista tecnico, come si può riuscire a contenere il trio delle meraviglie, chiamiamolo così, Nini, Di D'Egro e Jackson? No, semplicemente con intensità e attenzione, sicuramente sono tre giocatori che producono tanto, che hanno tanti possessi, semplicemente come abbiamo fatto con altre squadre, con giocatori importanti, serviranno comunicazione, concentrazione, stare giù sulle gambe e contemporaneamente essere attenti a tutti gli altri, perché la gara è andata in un momento particolare, nel terzo e quarto abbiamo subito tre bombe di Severini, quello comunque ha cambiato la partita, sono quei tre giocatori che hanno spesso la palla in mano, ma hanno anche altri giocatori di altrettanta qualità e altrettanto pericolosi. Bisogna dire comunque che Udine è una delle migliori squadre del nostro girone, quindi non era sicuramente una partita assolutamente scontata, anzi è una partita molto complicata, loro l'hanno messa da subito, c'è un supero punto di forza, comunque la fisicità in primis, hanno imposto il loro modo di giocare per tutta la partita. Noi abbiamo avuto momenti di alti e bassi, abbiamo visto il terzo e quarto, abbiamo rimontato, poi mi siamo di nuovo calati, un passo indietro, sì, si può dire un passo indietro, però non freglie l'armismo comunque, si tratta semplicemente di cercare di rimanere concentrati tutta la partita, come abbiamo fatto molto bene a Udine, nel terzo e quarto, e cercare di giocare in quel modo il più possibile, semplicemente. Nonostante tutto a un certo punto si fosse messo contro di noi, perché la partita stava andando male, abbiamo trovato quella scintilla, quel qualcosa che comunque ci ha permesso di rialzarci e di rimettere la partita in discussione, infatti Udine comunque, anche se abbiamo perso la fine di 10 punti, non ha messo una partita scontata, e quindi di positivo direi comunque il nostro atteggiamento, anche in un momento di difficoltà, cerchiamo come sempre di salire, di ritrovare le cose positive che ci fanno giocare bene. Andiamo all'andata, è stata una gara che ha richiesto un notevolissimo sforzo fisico, soprattutto uno sforzo mentale, forse infatti siamo stati penalizzati da due errori che abbiamo fatto, due disattenzioni, che poi hanno messo il binario della partita a loro favore, e dovremmo cercare di rimanere concentrati per tutta la partita, e di soprattutto pareggiare e superare la loro attenzità. Come sempre io penso che, uscendo dalla panchina comunque, avendo quel minutaggio, diciamo, dovendo dare del riposo a Venka, devo entrare e dare comunque energia, dare qualcosa, un contributo che magari non sono i punti, però, non so, i rimbalzi, due difese, insomma queste cose che sono comunque utili alla squadra che danno energia, quindi sicuramente domenica si tratterà di entrare e dare un contributo da questo punto di vista, punto di vista mentale diciamo ancora prima che tecnico, e poi vedremo.